Buonasera Per una sera non mi sono vestito da ladro di rame Oh, grazie dell'applauso che avete fatto quando l'ho detto Stefano Chiodaroli L'applauso che mi sono permesso di cronometrare è durato un secondo e otto Lasciatemi dire una cosa, quando si sta bene insieme sembra che il tempo non passi mai Lì dietro quel secondo e otto è sembrato un'eternità Perché cronometro la durata degli applausi? È semplicemente una stranezza che deriva dal fatto che io ho l'ascendente zodiacale nel segno della riete Quando sono nato io la riete stava allo zenith del punto in cui sono nato nel momento in cui sono nato Ma è più importante il segno zodiacale Cioè la posizione del sole nel momento in cui nasciamo Quindi io sono un sagittario con l'ascendente in ariete Ci sono altri sagittari questa sera? Benissimo I sagittari presenti possono portare testimonianza di quello che era il nostro oroscopo alla fine dell'anno scorso Diceva sagittario Vedrai che luglio Vedrai che agosto Vedrai che estate Un giove benefico transiterà nel tuo cielo E la tua vita amico sagittariano Cambierà da così a così È arrivata l'estate Giove benefico è transitato nel mio cielo Io stavo transitando sulla tangenziale ovest di Milano La mia macchina si è capottata da così a così Amici di Sganassau Ho una piccola cortesia da chiedervi E mi prendo anche una piccola licenza Perché dico quella che spero essere l'unica parolaccia Che dirò questa sera Però se incontrate Giove mandatelo a fanculo da parte mia Va bene comunque Di recente diciamo due o tre anni fa La polizia stradale mi ha portato via la patente Me l'hanno proprio portata via Stracciata Non mi ricordo perché mi hanno portato via la patente Perché sono svenuto Stasera voglio decidere insieme a voi Quali sono i veri motivi per cui io sono senza patente Ci sono due ipotesi sulle quali sto lavorando Ipotesi numero uno La polizia stradale è invidiosa della mia bellezza E della mia giovinezza Non dite subito sì Ipotesi numero due Nonostante la patente mi fosse già stata ritirata Io mi sono battuto il cazzo Ho guidato lo stesso Quindi la polizia stradale mi ha fermato un'altra volta Sequestrato la macchina Inflitto una sanzione amministrativa E non posso più guidare fino al marzo 2015 Chi vota per l'ipotesi numero uno? Chi vota per l'ipotesi numero due? Un attimo che vi conto, grazie Ma io sono una persona di fede Credo nella provvidenza E quei 15 punti che mi mancavano sulla patente Mi sono finiti tutti nella mano Perché nel 2012 io questa mano l'ho fracassata E l'ho dovuta operare due volte Infatti ho 15 punti nella mano Perché ho rotto questa mano? L'ho rotta a causa di una donna Poi non mi ricordo più niente Perché fa malissimo e sono svenuto Voglio decidere insieme a voi Per quale motivo io ho rotto la mano A causa di una donna Ci sono due ipotesi sulle quali sto lavorando Ipotesi numero uno Io per questa donna volevo raccogliere una stella Ma le stelle sono troppo alte Troppo appuntite Troppo incandescenti E sporgendomi nell'abisso blu Io mi sono ferito la mano Ipotesi numero due Questa donna mi ha fatto girare i coglioni Io ho dato un pugno nel muro Mi sono spaccato la mano Chi vota per l'ipotesi numero uno? Chi vota per l'ipotesi numero due? Un attimo che vi conto Grazie Comunque per avere informazioni Più aggiornate su di me Sarebbe meglio parlare con la mia famiglia Con mio padre Che stava rese C'è 80 anni È un uomo di poche parole Poche parole significa che Quando lo vado a trovare Come oggi Prima di partire Gli dico Ciao papà Poi sto lì Gioco a carte Bevo un caffè Fumo un sigaro Chiacchiero con la mamma Dopo 3-4 ore Sono uscito di casa Gli ho ridetto Ciao papà A quel punto mi ha detto ciao Ma il suo ciao Era in risposta Il primo ciao Di quando ero entrato in casa Sapendo che sarei venuto qui stasera Il papà Mi ha telefonato Quando ero circa l'altezza di Bologna E quasi sospirando Mi ha detto delle parole Di una tenerezza Che avrebbero stroncato un bufalo Papà mi ha chiamato E per telefono mi ha detto Stefano Gode di tu una roba Tite set un cuion Tite set il più secco De tutti i tuoi fradei Per voi che non conoscete il francese La traduzione è la seguente Stefano Io non riesco a capire Come mai Con gli studi che hai fatto Tu non faccia parte Del corpo consolare italiano Presso la Santa Sede E poi E poi c'è mia mamma Che non si è mai occupata molto Della mia educazione Grazie E poi c'è mia mamma Che non si è mai occupata molto Della mia educazione E questo in virtù Della sua particolare alimentazione Mia mamma si ciba esclusivamente Di grappa corretta sambuca Mi fa piacere Poter sollevare qualche risolino Intorno a questa stupidaggine Pensate Quando faccio questa battuta in Veneto In Friuli In Trentino Non solo non ridono Ma si incazzano E c'è anche qualcuno che mi dice Cosa che siete strano Anche a bordo mattina Per cui Era importante ridere anche Per questa stupidaggine E concludo E concludo Dicendo un'ultima cosa Un'ultima cosa Che Mi piace Prima raccontavano Di Belli Dentro Nel panettiere di Colorado Ecco io voglio approfittare Un po' di questo brandello Di notorietà Per lasciare un messaggio importante Abbiamo fondato di recente Con i miei colleghi comici Un'associazione benefica Abbiamo fondata Perché ha detto Usiamo Usiamo la notorietà Per qualcosa Per cui valga la pena Fondata l'associazione Abbiamo nominato un presidente Pensate Loro hanno nominato me Presidente di questa associazione Questa cosa Mi ha molto onorato Per cui sono qui A parlarvene questa sera L'associazione Potete anche controllare Poi nel web Si chiama Regaliamo un Porsche A Stefano Chiodaroli Amici di Bellaria Il mio sogno Mi piacerebbe Che diventasse anche il vostro Amici di Bellaria Il Porsche A due posti Quello seduto di fianco Potrebbe essere uno di voi Se poi c'è la patente È ancora meglio Perché io veramente La patente non ce l'ho Grazie Buona serata Stefano Chiodaroli Matteo Moni Ma tua moglie Come si chiama Quando fai il fornaio Mia moglie Come si chiama Allora allontano un po' il microfono Sennò Mia moglie si chiama Piero E io poi per cercarla C'hai un paio di occhiali Come no Guarda Ho solo degli occhiali Prego Sì Un oddio Vabbè Però Per cercare la moglie Faccio così Per piacere Per cortesia Per favore Si può fare Mello rumore Che c'è la tua moglie La bambina Stando a menza Dove fare il pasta A camor Ma si può fare Mello rumore Che c'è la tua moglie La bambina Stando a menza Dove fare il pasta A camor A forza di dire Per piacere Per cortesia Per favore Era convinto Di essere seduto Su due sacchi Della farina Invece no Sono seduto Sui miei coglioni Sono seduto Buongiorno